Un Natale triste con uno spirito natalizio sotto tono dopo quanto è accaduto a Berlino con i mercatini di Natale colpiti al cuore e con le immagini dei bambini di Aleppo in cerca di riparo dalla morte. E' quanto sostenuto dal preside Marco De Prospo nel salutare e augurare Buon Natale all'unni insegnanti e genitori. E adesso ti chiedo tra tanti per me, è Natale, non sei qui o qui. Devono essere questi i valori a cui queste festività natalizie devono ispirarsi gli alunni della scuola Mediaco Votta che guidati dal maestro abruzzese si sono esibiti in uno straordinario concerto dedicato ai valori sociali. Musica Musica Intanto la solidarietà è scattata ovunque. Dunque è stata per esempio espressa con i mercatini di Natale che hanno invaso l'atrio dell'istituto comprensivo Don Milani che per il secondo anno consecutivo hanno inteso donare il ricavato a Surgery for Children per i vaccini e per la costruzione di un pozzo per l'acqua per i bambini dell'Africa. Musica 10 10 12 14 15 15 15